Nell'ambito dell'attività di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, i funzionari antifrode dell'Ufficio di Gioia Tauro, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria e Direzione Strettuale Antimafia, hanno individuato e sequestrato 1.126 kg di cocaina purissima nello scalo portuale calabrese. Attraverso una complessa ed articolata attività di analisi di rischio e riscontri fattuali su oltre 2.100 contenitori provenienti dal continente sudamericano, i militari della Guardia di Finanza e i funzionari doganali, con l'ausilio di sofisticati scanner in dotazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono riusciti ad individuare lo stupefacente abilmente occultato in container carico di banane provenienti dall'Equador. La sostanza, di qualità purissima, avrebbe potuto essere tagliata dai trafficanti di droga fino a quattro volte prima di essere immessa sul mercato, fruttando un introito alla criminalità organizzata di circa 225 milioni di euro. Le modalità di occultamento dello stupefacente si dimostrano spesso differenti e sempre in via di evoluzione, obbligando gli investigatori a perfezionare di volta in volta le metodologie operative. L'attività di servizio testimonia la costante efficaciazione posta in essere dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dall'ufficio ADM di Gioia Tauro per il contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.